Ma ciao, YouTubini! Benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati Buon, sabato 8 agosto 2020. Allora, cari YouTubini, mi vedete sempre vestito allo stesso modo, perché il video li sto registrando tutti oggi, 6 agosto 2020, perché non ho un tubo da fare, per questo sono su YouTube, e quindi sto registrando un po' di video, ok? Quindi è tutto sotto controllo. Allora, cari YouTubini, ieri e l'altro ieri abbiamo parlato di Instagram Reels, ok? Oggi parliamo di TikTok. Cosa dobbiamo parlare di TikTok? Allora, chi è che non conosce TikTok? TikTok è un social network che prima si chiamava Musical.ly, musical.ly, una cosa del genere, e poi è stato acquistato da TikTok, ok? TikTok è un brand cinese e è famosissimo in tutto il mondo, poiché soprattutto dapprima è diventato famoso nel mondo dei ragazzini, dei teenagers e così via. Poi durante il lockdown, scusatemi, ho un mal di schiena, quindi mi appoggio qua. Poi durante il lockdown si sono iscritte tutte le fasce d'età, quindi 30, 40, 50 anni e così via, e sono entrati anche i VIP, perché prima i VIP non c'erano su TikTok, ora ci sono anche i VIP, quindi le persone famose. Ad esempio, mi sembra di aver letto, tipo il mese scorso, che tipo Chiara Ferragni ha fatto un contratto con TikTok per sponsorizzare ancora di più TikTok e così via, nello specifico non ricordo cosa, però una cosa del genere. Allora, in ogni caso, cosa volevo dirvi? Allora, già nel video del 6 agosto, ok, vi avevo detto che TikTok sta avendo dei piccoli problemi in America, negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma soprattutto negli Stati Uniti. Perché? Perché Donald Trump vuole vietare TikTok, perché naturalmente, come ben sappiamo, purtroppo gli Stati Uniti, quindi Donald Trump, non ce l'ha un pochettino con i cinesi, ok? E dato che TikTok è cinese, ha paura che TikTok, essendo cinese, possa rubare i dati sensibili dei propri clienti, ok, americani. Per questo motivo ha deciso di, cioè, vuole vietarlo. Anche se avevo letto che nel caso in cui TikTok accettava di essere acquistata da Microsoft, questo solo in Cina, quindi la serie di TikTok, scusate, sto parlando da un po' e quindi la mia lingua si sta immobilizzando. Comunque, se TikTok cedeva al ricatto di essere acquistata da Microsoft, poteva continuare a restare in America. Dopo aver terminato il video di, il video, scusate, autorizzo, ok, perché queste cose schifose, odio. Ok, dopo aver utilizzato il, dopo aver fatto il video... Allora, scusatemi, dopo aver fatto il video di... dove vi spiegavo come utilizzare Instagram Reels, scrollando nelle news di Apple, o... Scusate, scusate, sto impazzendo. Leggevo, Senato USA, USA, non USA, vabbè, ok, ha progetto legge per divieto TikTok su telefonini governo. Andiamo a leggere nello specifico perché ancora non l'ho letto. Allora, il Senato americano ha provato... Ah, questa notizia, la fonte è di TG.com, non so se si vede, ok, è una news di TG.com 24. Allora, dice, è la notizia del 6 agosto 2020 alle 23.29 di oggi, cioè, nel senso, voi starete vedendo questo video l'8 agosto 2020, ma in realtà io lo sto facendo oggi che è 6 agosto 2020 e da me in Inghilterra sono qui a Londra, è l'1.12, ok. Comunque, il Senato americano ha provato al unanimità un progetto di legge che vieta di scaricare e utilizzare l'app Cinese TikTok su tutti i dispositivi forniti dal governo americano ai suoi dipendenti o ai membri del congresso. TikTok rappresenta un rilevante rischio di sicurezza e non ha posto sui apparecchi... Ah, e non ha posto sull'apparecchio dei governi. Ha twittato il senatore repubblicano Josh Aolei qualcosa. E quindi, cari youtubini, TikTok, e ora non è possibile più né utilizzarlo né scaricarlo sui smartphone in America. Cioè, vi rendete conto? Cioè, non è possibile. Cioè, certo che... Ok, che non c'entra nulla. In America, prima è stato... Cioè, è successo lo scandalo Huawei, come ben sapete, l'anno scorso, che Huawei, che con le proprie antenne 5G, essendo Huawei sempre un brand cinese, Donald Trump aveva paura sempre per la sicurezza e così via, e quindi ha reso, tra virgolette, inutilizzabile i dispositivi Huawei, perché, tipo ad esempio, Google, scusate ma sto parlando ma mi sto per addormentare, e vi giuro, vi dico, cioè, vi dico solo questo. Infatti, dopo questo video, credo che sto però e non farò nuove video per il momento, perché ho bisogno di dormire. Non so se si nota anche dal viso. Comunque, comunque niente, alla fine i dispositivi Huawei non possono avere più Google sui propri smartphone, quindi il Google Play, il Play Store, e nulla. Quindi, cari youtubini, detto ciò, per il momento in America c'è il divieto, c'è il divieto di TikTok, si vocifera, c'è anche in Inghilterra si dice che a breve sarà illegale TikTok, vabbè, tanto io ormai torno in Italia per il momento, quindi, cioè, torno in Italia, quindi per il momento non mi tocca. Ups, scusate, mi stava cadendo la borraccia. Mi stava cadendo... Non mi tocca... Vabbè, comunque, cari youtubini, vi saluto. Questo video è già durato troppo perché ho tanto sonno, quindi adesso caricherò il video di domani, che domani è 7 agosto. Cioè, ieri, per voi era ieri 7 agosto, ma in realtà per me è domani 7 agosto, perché io sto registrando questo video il 6 agosto. Quindi devo caricare il video di ieri, e poi domani vi caricherò. Vabbè, non fa niente, cari youtubini, vado a dormire, seguitemi su Instagram al mio profilo getano.donati e aggiungetemi... Cioè, aggiungetemi su... Sì, seguitemi su Instagram e... E niente, buonanotte, un bacio dal vostro Getano Donati. Starete pensando... Chi non mi segue, chi non mi ha mai visto, secondo me sta pensando, ma questo sta da fuori. Sì, fondamentalmente sto un po' da fuori in generale, però... però sto da fuori in modo simpatico, almeno spero. Ciao youtubini, al prossimo video!